ci sono posti dove si ascolta e si impara tanto e posti dove si parla e non si impara mai nulla ecco per noi la musica è un rifugio rassicurante che ci accoglie ogni giorno siamo in fucina 28 e siamo di nuovo qui su music racer per finanziare una piccola parte del nostro terzo album in studio l'armonia degli opposti che uscirà in questo 2018 un disco tutto nuovo con tanti cambiamenti maturati nel tempo grazie anche alla collaborazione di studenti del conservatorio nicola sala di benevento in palio per voi tantissime ricompense di varie tipologie tra cui magliette di l'officina 28 tanti gadget e con molto molto piacere cene e aperitivi in nostra compagnia vi ringraziamo anticipatamente per il supporto e per la fiducia che ci avete dato fino ad oggi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti